a parte che sto trovando un sacco di conchiglie volevo accennarvi questo io adesso ho iniziato gli allenamenti anche perché sto mangiando di tutto e di più ma davvero di tutto e di più però grazie al fatto che ho fatto il C9 che ho fatto l'F15 in mantenimento e che continuo a prendere i miei integratori devo dire che riesco adesso praticamente mi ha cambiato proprio il metabolismo perché riesco a mangiare tutto quello che voglio e certo non è che mangio tipo 10 kg di carne al giorno però mangio davvero di tutto dai carboidrati ai dolci e grazie al percorso che ho fatto il metabolismo mi si è riattivato e soprattutto grazie a tutti gli integratori della Forever che continuo a prendere ho la possibilità di mangiare, sgarrare e non ingrazzare infatti sapete che ovviamente Luigi doveva attivare il drone adesso sapete che io ho seguito il C9 con Fabiola se volete anche voi far ripartire il metabolismo potete scrivere lei ma tra l'altro da quando uso i loro integratori per il viso, per le macchie mi sta migliorando allora abbiamo appena fatto dei contenuti pazzeschi che spero di farvi vedere prestissimo ma guardate questo cielo finalmente si riesca raga cioè vi giuro io sono un po' piena di sabbia vedo tutto qua se vado qui questa è angoria arrostita vabbè questa non è ma io avrei una domanda per te se ogni anno ci sposiamo vuol dire che fra un po' di anni io sarò piena di anelli e io senza sovra stamattina colazione sobria mattone perché già sono ingrassata ma io dalla vita che cosa posso desiderare di meglio gnammi gnammi colazione c'è mele ci sono mare c'è